buonasera gialli benvenuti alle pergelle di asco di modena come sempre vi invito a iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così siete immediatamente aggiornati appena esce un nuovo video partiamo spiderman benvenuto anzi bentornato più che benvenuto tre pali sette e mezzo premente il migliore dei gialli si merita il sette e mezzo perché ha sventato il calcio di rigore battuta nestorovski al sul fine sul finale praticamente del primo tempo e meno male che l'ha parato perché sarebbe stato poi dura poi andare a recuperare nel secondo tempo quindi si merita il sette e mezzo per il resto una partita normale ordinaria amministrazione uscito non c'era da uscire sui calci d'angolo sui calci da fermo sui cross e non ha dovuto fare particolari interventi poi nel corso della gara ma quel calcio di rigore è stato appunto determinante bravo spiderman riccio 5 brutta prova di riccio non mi è piaciuto non ha partecipato molto anche alla manovra offensiva come per il resto cotadi però da riccio uno si aspetta un po più di gamma no perché cotadi sappiamo perfettamente che non è un terzino particolarmente offensivo non è stato un po disattento non mi è piaciuto molto poi la minchiata colossale buttare giù giocatore in area di rigore dove su un pallone che non sarebbe mai arrivato è stata una grossa grossa ingenuità oltretutto era già munito per cui l'arbitro è stato grazie cioè l'arbitro lo ha graziato per il secondo cartellino e mi sembra che non ci sarà in casa questo tirolo perché era diffidato quindi squalificato quindi si merita il 5 disattento e poco partecipativo alla manovra offensiva zaro e per greffi voto di coppia 6 e mezzo non hanno dovuto sudare chissà quante camicie per poter fermare l'attacco dell'ascoli orfano anche del loro bomber e mendes ma comunque ad ogni modo visto che comunque ultimamente eravamo una difesa molto molto ballerina o comunque ti dava l'impressione che poteva subire gol e questa volta già gli hanno dato l'impressione di non soffrire l'avversario e la coppia zaro per greffi ha funzionato da grande zaro l'ho trovato finalmente un po più sicuro di sé e per greffi la solita personalità e quando in becca una gara buona per greffi veramente difficile superare diventa roccioso diventa un giocatore che va anche sull'anticipo e insomma bisoli comunque sappiamo perfettamente che bada molto prima a non prenderle e poi a darle quindi l'ha preparata bene sotto questo punto di vista non c'è nulla da dire e insomma i nostri centrali si merita noi sei e mezzo cotali sei voto di il solito cotali senza infamie senza lode si è disimpegnato bene insomma sulla sua sinistra non ha spinto ma non nessun mestiere praticamente spinge poco come terzino ma se è stato ordinato il solito cotale insomma quando non ti aspetti delle prestazioni da otto ma non ti farà mai una prestazione da cinque sono quei giocatori che ora come ora servono per mantenere la calma per mantenere la lucidità 6 santoro 7 7 più bella gara di santoro schierato davanti alla difesa ha fatto veramente frangifrutti era ovunque era un mediano in cui insomma non lasciava spazio all'avversario ovviamente la qualità nella ripartenza non è quella di gerli ma sono due giocatori completamente diversi santoro però ha dato quella dinamicità quella acqua recupero dei palloni insomma un uomo ovunque in mezzo al campo e penso che abbia ricoperto perfettamente l'idea che aveva bisogno di nella mente per cercare di arginare insomma questo centrocampo dell'ascoli dove fondamentalmente era di tacchio quello che spiccava di più proprio un medianaccio bello bello tosto e insomma santoro è stato è stato bravo è stato bravo ad originare comunque insomma la mediana scolana poi per il resto non ha fatto particolari incursioni in area ma non era quello il suo compito ieri comunque bravo mi è piaciuto molto 7 più battistella 5 e mezzo allora sarebbe stato da 6 però gli do il 5 e mezzo perché l'ho visto anche di poco partecipativo cioè battistella è una mezzala che secondo me ce l'ha insomma il passo dell'inserimento il movimento che si può inserire abbiamo visto insomma i gol che ha fatto contro il palermo ce l'ha lui l'idea dell'inserimento lo riesce a fare e l'ho visto fare veramente poco c'è in un 4 3 1 2 insomma le mezzali c'è chi può avere il compito di difenderli sta un po più dietro ma ci deve essere anche qualcuno che deve avere insomma la predisposizione di inserirsi in area e battistella tranne qualche leggero tiro dal limite dell'aria ha fatto molto poco sarebbe stato da 6 un po stiracchiato ma gli voglio dare 5 e mezzo appunto per questo deve inserirsi in area perché già gli ozzi o strizzani non fa niente poi non ci inseriamo neanche in area con le mezzali quando faremo mai gol 5 e mezzo stesso voto di palumbo palumbo nel post partita di ieri ho detto che è un giocatore che forse si vede meglio in un centrocampo più dedicato al palleggio però comunque era dei tre era quello che doveva avere più qualità quando poi è stato tolto via tremolata è stato spostato un po più avanti qualcosina si è visto un po' quello di più qualcosina ma un po che niente per il insomma per il restante 80 per cento della gara palumbo è stato un fantasma non l'abbiamo visto bene insomma da palumbo sappiamo perfettamente che gara può dare e quello è proprio lontano parente del palumbo che mi ricordo io speriamo che questo modo di giocare di bisoli non penalizzi troppo non lo penalizzi troppo non credo non spero ma insomma bisogna un calcio molto molto diverso rispetto a quello che siamo abituati siamo stati abituati a vedere fino col catanzaro e insomma staremo a vedere speriamo che non lo penalizzi troppo comunque la gara di ieri da 5 e mezzo stesso voto anche a tremolata 5 e mezzo a parte qualche insomma il calcio d'angolo che ha rischiato di fare la rete qualche lancio qua e là nel primo tempo per le punte niente ho visto probabilmente niente da tremolata si insomma il solito tremolata correva si scancra ma di giocate di qualità ne ho viste veramente 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 poche ed alcune neanche capita dai compagni insomma ritorniamo a 4 3 1 2 che comunque un modulo giusto per questa squadra magari si può provare a mettere 4 3 2 1 4 3 1 2 ma se la zuppa è pambagnato siamo lì e comunque tremolata ricordiamoci sempre che ha fatto quasi non so quasi un girone che non ha giocato è praticamente poco poco lì quindi ci può anche stare che non ha proprio il ritmo completo nelle gambe già lui è un giocatore che a volte si estranea dalla partita e poi lo trovi che si riaccende nella gara di ieri proprio molto molto in difficoltà e non ha fatto non ha fatto praticamente tanto quindi si merita 5 e mezzo speriamo insomma che ritorniamo ad avere un po più di intesa anche lì davanti gliozzi 5 mamma mia gliozzi nel secondo tempo guarda ti avrei tolto via perché veramente anche al limite delle insomma del giocatore che ti irrita quando lo vedi giocare non ci siamo non ci siamo speravo che avessi insomma un insomma un approccio un approccio migliore alla gara e poi comunque generalmente non si è stato molto impattante da quando si è arrivato a modena stavi un pochino prendendo ritmo quando si è stato appena acquistato con anche gol con i cosenza dove di insomma stavi macinando minuti stavi trovando un po la forma però da cremonese in poi ti ho visto molto scemare non mi sei affatto piaciuto non lo so se può essere il fatto che cambiamo coppia d'attacco o non è il partner a volte giochi da solo non lo so se questo perché non provi la continuità fisica non so se ancora qualche problema non lo so però la gara di ieri veramente il primo tempo un tiro finito neanche che inquadrata la porta uno direi ma bubè ma in redditi ragazzi ma sì da gliozzi che comunque un giocatore di tutto il rispetto in serie b non mi inquadra neanche la porta poi nel secondo tempo non ti facevi un po anticipare non ti facevi far fallo insomma dovevi tenere un po più sulla squadra visto che comunque basavamo il nostro gioco sulle ripartenze proprio niente 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 svegliamo cicliozzi mancano quattro partite fammi un altro gol t'ha fatto un gol da quando sei arrivato molto poco vediamo la prossima stagione ma speriamo che avrai altri numeri 5 strizzalo 5 e mezzo vedi il suo collega siamo lì un pochino meglio ha avuto una bella occasione al quarantesimo al quaranta seconda dall'inizio della gara ora invece che incrociarla l'ha tirato lì sul palo io non lo so oppure farà una finita io non ho e la smania però a volte io dico ma perché non incrociano il tiro sull'altro palo come fa fare con sul palo del portiere pensava di fregarlo non so se io volte quando vedo delle giocate di strizzolo che non riesco a capire io l'ho ripeto l'ho detto più volte che questo è un giocatore importante per la categoria ed è importante per noi però in questa stagione è stata una stagione maledetta per lui non è un giocatore che su cui puoi dare puoi essere sicuro che la dia strizzolo boh questo è un giocatore che ti fa gol non è affidabile non è affidabile mi dispiace poi qualità potrebbe anche averle ma se dal punto di vista fisico non va cosa me ne faccio cosa ci facciamo niente ci facciamo con un giocatore così si ripeto per la gara di ieri un po si è impegnato fa ma stringi stringi non fagò non fagò quattro gol in tutto però in tutto il campionato ma parlano da soli cinque e mezzo andiamo avanti con i subentratti ucadda cinque e mezzo cioè ma mi fai anche ridere allora l'allenatore cambia riccio perché ha monito ti inserisce perché sei comunque un giocatore fresco sei un giocatore che non ha cartellini 20 secondi dall'inizio del secondo tempo giallo ma sarai ben una testa di rapa poi dopo va dall'arbitro dice primo è il primo è il primo è il primo cazzo gli ha dato una manata giocatore dell'ascoli che poi o se lo facesse secondo me se lo provavi a rincorrere lo prendevi era centro campo praticamente fallo ma che io posso capire spende un cartellino giallo era lì al limite dell'area ci sta che spende il cartellino giallo ma era di quasi all'inizio del centrocampo o la manata per andare a fermare poi dopo quel cartellino giallo cos'è sei stato condizionato per tutto il secondo tempo guarda 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 a biluminazione che questo giocatore la prossima stagione lo diamo via anche in serie c non c'è bisogno che lo diamo al verona tranquillo evidentemente non serve al verona diamo via cioè non è un giocatore da b non è un giocatore da più se ne accorto anche bianco quindi insomma andiamo avanti e con magnino sei più garata io mi aspettavo che giocasse anche già dall'inizio magnino si è fatto a munire anche lì un po un po testa di cazzo bisognerebbe anche un po gestire certe cose cioè visto che siamo sul finale di stagione stiamo attenti con questi cartellini perché adesso veramente manca riccio la prossima non abbiamo ponzi bisogna stare attenti con questi cartellini spendeteli bene mancano quattro giornate poi va bene se dovete fermare un avversario che va in porta è normale che dovete prendere il cartellino giallo si spende bene un cartellino giallo di questo tipo ma generalmente state attenti con questi cartellini abbiamo quattro partite veramente state attenti comunque venendo la prestazione di magnino sei più non mi non mi è dispiaciuto quando entrato a parte appunto questo cartellino giallo e ha fatto una gara abbastanza abbastanza maschia ha contribuito veramente a portare a casa il pareggio una gara di magnino per questa va benissimo infatti mi aspettavo che partisse titolare invece ha preferito battistella secondo me bisogno di per provare qualche inserimento da parte del giocatore ha gestito bene insomma si è gestito bene ha marcato bene gli avversari ogni tanto davvero per voi che poteva non si faceva vedere molto in avanti ma comunque doveva farla diga lì davanti e l'ha fatto bene bravo magnino andiamo avanti con bojanai sei più sei più ha fatto un buon impatto quando entrato peccato quel tiro se fosse stata ancora più angolata non ci sarebbe mai arrivato il portiere dell'ascoli però quando entrato insomma ha dato un po di divacità l'attacco perché eravamo veramente a incefalo gramma piatto di davanti quindi ha dato un po di librio parteva un po dalla sinistra si accentrava ha fatto ha fatto un buon impatto quando entrato per cui si merita il sei più abiuso cinque e mezzo brutto impatto della gara non mi è piaciuto quello di abiuso è anche vero che visto che giocavamo sulle ripartenze non siamo neanche riusciti a partire con velocità di davanti eravamo molto schiacciate all'indietro abbiamo avuto quell'occasioncina con bosanai per greffi e calcio di punizione e stiamo parlando penso dall'ottantacinquesimo in poi e poi per il resto abiuso entrato al sessantesimo se non mi ricordo male quindi 25 minuti del nulla cosmico di abiuso non c'era una manovra offensiva che lo potesse favorire però veramente abiuso potevi dare un pochino di più anche i colleghi di reparto veramente i trattaccanti che sono entrati ieri mamma mia mamma mia mamma mia veramente questo attacco qua veramente scarso ne ho visti di di attacchi del modena nel corso degli anni ma questo in teoria anche sulla carta non sarebbe male però anche la la nota positiva di questa stagione perché poi per il resto ragazzi tabula rasa per la prossima stagione per me ci sarebbe da fare la carta c'è la pagina bianca quindi la nota lieta è stata abiuso la gara di ieri ovviamente non è stato non è stato buono ma insomma è un giovane a 21 anni ci sta ci sta e comunque è venuto qua non sono ma sei sette giorni neanche e qui non è stata la filosofia della gara da parte di bisoli ci sta comunque è venuto qua non sono ma sei sette giorni neanche e qui non è non è che poteva fare chissà che cosa poteva fare roma e tomba l'importante è che questa gara non l'abbiamo persa però c'è da puntare tutto sulla gara con il suo tiro perché avrà una settimana in più per poter lavorare con la squadra e e deve randellare questi attaccanti dovete fare dei movimenti o consigli efficaci perché ieri mamma mia mamma mia mamma mia non c'è stato movimento offensivo a parte qui un pochino all'inizio e poi niente non siamo mai stati pericolosi quindi spero che bisoli vi inculchi nella mente come poter fare in queste ultime quattro partite la possibilità di fare gol perché veramente non abbiamo o dei movimenti offensivi che possono pungere essere efficaci di davanti non li abbiamo veramente contro l'ascoli non fare neanche un gol insomma che sulla carta uno guarda l'attacco tremolata strizzo gliozzi uno sulla carta dovrebbe dire cazzo 12 gomme potrebbero pure fare questi tre insieme invece niente zero quindi mister bisoli veramente rompe gli cazzo sti qua cerca di far fare delle manovre offensive efficaci manovra la parte difensiva è stata curata bene perché prima non prenderle e poi vediamo di darle la filosofia si è vista perfettamente ieri cerchiamo con sul tirol veramente di trovare questi benedetti tre punti e avvicinarci e fare un grosso passo verso la salvezza perché insomma è arrivato il momento tanto atteso di tornare a vincere anche al braglia dai gialli grazie a tutti grazie a tutti